Le fiamme sono divampate poco dopo le 23.30 in questo deposito della ditta Reflex in via Gabriele D'Annunzio, pochi passi dal centro di Biancade, a bruciare quasi 500 pannelli solari appartenenti all'azienda specializzata nel settore veterario e nella fabbricazione di articoli per l'arredamento. Sono stati alcuni residenti a lanciare l'allarme al 115, prima hanno visto il bagliore delle fiamme, poi avvertito il fumo, diventato presto una coltre abbastanza densa, tanto da essere percepito nella zona di Monastiera. Sul posto sono subito accorse anche alcuni titolari e collaboratori di attività vicine preoccupati per un possibile effetto domino. Mi ha gacciapato a casa, sono venuto qua a Veda e purtroppo se vi è incendiato i pannelli o vi è incendiato, non so, l'altro rio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Treviso, che sono ritornati in un secondo tempo anche nel primo pomeriggio, visto il riaccendersi di alcuni focolai, seppure contenuti, a monitorare la situazione dal punto di vista ambientale l'ARPAV che ha effettuato i rilievi sulla qualità dell'aria. Ma è sulle cause che si stanno concentrando, in particolare i carabinieri della stazione di Roncade. Con buona probabilità si tratta di un gesto doloso, viste le condizioni meteo della serata particolarmente umida. I sospetti, anche dei residenti, sembrerebbero concentrarsi su alcuni gruppi di ragazzini già noti per episodi simili. Ci sono stati atti di vandalismo piuttosto forti qua attorno. Recentemente? Recentemente, sì, recentemente qua. Anche qualche volta hanno trovato ragazzini che hanno incendiato, hanno fatto dei fuochi dentro nel bosco di qua e di là. Nessun innesco è stato trovato nell'immediato, non si esclude che un aiuto possa arrivare da alcune telecamere e fototrappole installate in zona.